Ciao, mi chiamo Massimiliano, meditavo da un paio d'anni prima di iniziare il corso Shen e attraverso l'apprendimento della filosofia e del Qigong ho imparato ad andare un po' più in profondità, quindi a conoscermi un po' meglio. Da questo momento in poi la mia vita è un po' cambiata, nel senso che mi sono posto in modo diverso con gli altri e ho visto che c'è stata una sorta di risposta, le persone sono diventate più gentili, più collaborative e sono molto felice di aver fatto questa esperienza perché è stata per me molto costruttiva e spero di continuare ad andare avanti in questo modo, continuando a praticare e a studiare in modo tale da poter evolvere e dare il mio contributo nella vita di tutti i giorni.